con la stessa intensità del primo tempo ci sarà ben poco da fare per gli avversari 2 a 0, un verdetto importante dopo questi primi 45 minuti l'azione è già ripresa non ci posso credere, un tiro fantastico, un tiro eccezionale vantaggio di tre reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza e si è inventato una conclusione violentissima ha impresso al pallone tutta la sua forza, una sassata imparabile rifletta a Hattrick, che partita eccezionale la sua questo è un giocatore immarcabile, non riescono a fermarlo in nessun modo grazie grazie